Il match di Serie A Venezia-Napoli è stato sospeso per qualche minuto a causa di uno scontro fortuito tra il direttore di gara Mariani e il difensore dei neroverdi Ebueni. La partita è ripresa dopo 5 minuti di interruzione. L'arbitro ha avuto bisogno del supporto dei sanitari medici a causa di una ferita riportata all'orecchio. Il Napoli ha poi sbloccato il match grazie ad un bel gol di Ozyman. Ribattezzato da molti, il centravanti mascherato a causa della maschera che attualmente indossa per proteggere il viso. Dopo l'infortunio riportato durante il match, Inter-Napoli disputato a San Siro alcune settimane fa. Per ora è tutto, gentili ascoltatori, non ci resta che tenervi quotidianamente aggiornati sul mondo dello sport. Grazie!